Musica Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale qui a Roma all'hotel Summit, io dico Summit perché penso di ricordare che sia latino Summit e non sia inglese Sì che non sia inglese, questa cosa poi approfondiremo, siamo in compagnia di Marta Gemma che dobbiamo dirlo è ormai una dirigente Sì sì confermo Perché poi ci sta la discussione tra i dirigenti e i dirigibili, ma quella è un'altra cosa Io credo di essere un dirigibile Non è una bella cosa Preferirei, ah sì davvero? Perché se è dirigibile vuol dire che viene eterodiretto Ah no allora no Non sei tipa, ok Allora Marta, cosa ci dici di questo congresso, come si possono cominciare a fare un po' di consuntivo perché insomma siamo già ormai a una giornata dalla fine, in pomeriggio Che ne pensi, come ti pare che sia andato? Guarda io il consuntivo non lo posso fare perché ieri mi sono persa tutte le commissioni e mi è dispiaciuto tanto Però l'altro ieri c'ero, no interessante, tra l'altro ho seguito su Radio Radicale tutti gli interventi, insomma parecchi interventi Mi sono piaciuti tantissimo quelli degli stranieri che dicono sempre cose più interessanti degli italiani Tranne qualche italiano Salviamo qualcuno Qualcuno lo salviamo sempre No no, mi piace, mi piace Il trasnazionale è un'altra cosa È proprio un altro spirito Si vive un altro spirito Forse anche più interessante Perché ha più ampio raggio Anche quando uno parla di carceri Parla di carceri mondiali, non di carceri nazionali Quindi diventa tutto più interessante E' meno noioso, insomma, però no no, mi piace anche questo Vedremo domani che cosa succederà perché forse ci saranno le elezioni Ma tu che mi dici, ci sono le elezioni domani? Io penso che il motivo di questo congresso sia anche quello di rinnovare le regali Non abbiamo più un presidente, si è dimesso ieri Si è dimesso il presidente e dai queste informazioni, intanto chi e quando si è dimesso? Sì, il presidente del partito radicale trasnazionale, traspartito, non violento Si è dimesso l'altro ieri Nella persona, sì, nella persona di Sergio, onorevole Sergio Stanzani Che ha ringraziato, che è stato carino, gentile come sempre A cui siamo tutti affezionatissimi Però non si vedono, non si sentono nomi di nuovi candidati che possono sostituirlo Io, forse Marco Pannella Ma nei congressi, diciamo, seri, secondo l'ortodossia radicale Le cariche sono tutte dimissionarie Sì, 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 tutte dimissionarie Però quella di segretario, non vorrei sbagliarmi, ma non si... Da quel D Non si rivolta da quel famosissimo D, sono anni Quindi forse domani ne rifaremo due di cariche Presidente e segretario, chi lo sa? Speriamo, insomma Siamoci io e te Siamo tu presidente e io segretario, che ti devo dire? Di una svolta a questo partito È una bella svolta io Sono l'uomo della svolta, nel senso che se mi mettono in mezzo al mare Io potrei fare la boa E lì intorno svoltano Sì, io vado a nuotare di giro intorno intorno, capito? Facciamo questa e la svolta Senti Marta, ma ieri tu non hai seguito le commissioni Tu non lo sai che è stata inserita una clausola Nello statuto che dice che i dirigenti che non seguono le commissioni decadono subito Immediatamente Ancora prima di entrare in carica In casa è decaduta, ma tu non lo sai No, veramente a me è stato detto questo Quando sono diventata dirigente Desta minchia No, intanto bisogna spiegare Perché non sappiamo se tutti sanno Ok, Marta sta nel comitato di radicali italiani Ne ho letta Insieme ad altre 59 persone Eh, sono in compagnia buona Però mi hanno detto semplicemente che se non partecipi ad almeno due congressi Riunioni, assemblee, riunioni, comitati consecutivi Decadi Io infatti sono angosciatissima da sta cosa Ma parto 4-5 giorni per Natale Ho detto non mi fate che mi convocate sta cosa E già mi, capito, mi togliete Sto fuori all'estero Però mi hanno assicurato che per la fine di questo anno Non si convoca il nuovo comitato Perché sarebbe ancora quello vecchio Che però a sua volta è decaduto Insomma, quindi se ne parla a gennaio Io sono liberissima, sono pronta Sto aspettando che congano sto comitato A presenziare, diciamo, di sedere sullo scranno che ti spetta Che mi spetta, che mi sono faticosamente guadagnata È una fatica, diciamo, col sudore della fronte Sì, sì, dell'altro congresso Quindi, vabbè, adesso infatti me lo sto godendo Perché non so candidata, non do fa i voti, non do fa niente È una pacchia sto congresso per me Senti, diciamo ovviamente sempre un'informazione che facciamo a stare Che Marta Gemma è molto attiva È una dei radicali, diciamo, virali Sul web e su Facebook Però pure lì, pure lì Dunque, c'è un'altra cosa Che forse non so se posso dire Però mi tocca seguirmi Tutte le conversazioni Su un altro blog importante del partito Diciamo, collegato al partito E quindi mi ruba tantissimo Io la notte, mentre prima ero su Facebook Un po' a cazzeggiare, un po' a politicare seriamente anche Adesso mi hanno rubato il cazzeggio E la parte seria Perché mi tocca leggermi le conversazioni Mi tocca, insomma, comunque Siccome sono dirigente, come dici tu Mi tocca inquietante Dai, non facciamo così Il cartello dov'elli? No, ma non serve C'ho comunque qua io E quindi, niente Mi ruba tanto tempo Mi dispiace tantissimo Però mi sono ripromessa di tornarci un po' di più Tra l'altro la sera Troppe cose ho da fare Mi devo fare i compiti di inglese Perché sto facendo un corso di inglese Alla mia tenera età Mi tocca di leggermi Ste conversazioni interessanti Per lo più Non tutte Però per lo più gli interventi sono interessanti Sto parlando della main list parallela Satia Gra Sì, Satia Gra Dove ci sono interventi di un certo livello Che mi piace anche seguire Che però perdo tantissimo tempo Perché arrivo la sera e trovo 150 messaggi 179 Cioè non ce la faccio nemmeno a leggermi di tutti E poi crollo E Facebook l'indomani Dico, oddio Facebook non ci sono salutato Quindi mi devo Allora, facciamo le promesse per il futuro I buoni propositi per il futuro Entro la fine dell'anno Sì, bravo Entro la fine dell'anno Dunque Riscrizione al forum radicale Assolutamente E garantisco un minimo di partecipazione su Facebook Un minimo anche Perché proprio l'assenza non è proprio lecita Non è consentita Una partecipazione di cazzeggio Ah certo C'è una cosa seria Sì, c'è una cosa serissima Serissima Dove anche Gianni Colacione lo massacro Non gliene faccio passare una Diciamocelo Cacchio, no? Gianni Colacione è morbido Quindi ammortizza bene No, poi lui le donne proprio non ce li dica Manco se l'ammazzano Se l'ammazzano È vero? È vero? Cioè, pure se una donna gli dice Ma vaffanculo Abbiamo dei messaggi veramente trasversali Sì, trasversali Cioè, dove il livello Direi anche eterofobi No, però abbiamo avuto dei trascorsi Di, diciamo, dibattito con Marta Che sono durati un weekend Sì, proprio un weekend Lei, sei certo? Sì, sì Ma su che tema? Non me lo ricordo Sul tema su Israele e qualcosa del genere Ah, sì, 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 sì Beh, su Israele, sì Ma sul forum radicale Io ho perso due chili in quel weekend Io l'ho messi però Però sul forum Le discussioni su Israele Io ormai le eviterei Te lo giuro, le eviterei Gnonia, se ne fa più Basta Tanto il partito è diviso E siamo sempre gli uni contro gli altri Sono due squadre Diciamocelo Sono due squadre e basta Cioè, finisce sempre 0-0, eh? Sì, o una a uno O una a uno Come preferisci Quindi No, quello basta, basta, basta Marta non perde mai Quando... Quando rientro nel forum Mi dispiace ma non ci ricasco più Bravo Quando vedo che... Vabbè, facciamo nomi, dai Solo cognomi Però mi ritornano... Ok, facciamo i cognomi Quando l'Itta Modignani Che poi fa parte della mia squadra Mette il link su Israele Metto mi piace e vado avanti No? Un I like non si nega a nessuno Non si nega a nessuno, bravo Cioè, Martialetti ci frega a tutti Ah, Martialetti è campione del mondo Lui è I like men Eh... Sì, sì Lui ci frega a tutti Tu potresti fare I like woman I like woman, sì Sì, ok Mi candido Allora, attendiamo il ritorno di Marta Gemma Sul grande forum radicale in ufficiale Nel frattempo metteremo questa intervista E la faremo girare urbi et orbi Per orbi e non orbi E ovviamente sul web Sin da oggi stesso E gliela posteremo sulla sua bacheca Ok, infine Te prego Ok, grazie Grazie davvero Va bene A questo punto chiudiamo Con un augurio appunto Per questo congresso Non possiamo fare pronostici Perché non sappiamo neanche i candidati Certo, quindi niente Che vogliamo pronosticare? Ah, niente Se Marco Pannella ci degna della sua presenza Siamo tutti più contenti Visto che il transnazionale è veramente roba sua Cioè, proprio tutto suo Una grande intuizione che forse non tutti capirono all'epoca Ma che oggi si è realizzata e si è compreso che è vincente Sì, sì, che è vero, è vero È bellissimo E comunque un saluto pure a Riccardo Cristiano Un saluto a Riccardo Cristiano Che lancia messaggi eterofobi Un saluto a tutti gli amici e i compagni di Facebook Che a Tiso è sul forum Radicali in Ufficiale Un saluto a qualcuno in particolare? Veramente qui oggi ho conosciuto una persona del forum Lo sai che non l'avevo mai vista? L'avevi mai vista Alessandra M? No Ma non l'ha conosciuta? Si stava giù al tavolo con Roberto Sì, sì, sì Sì, sì, l'ho vista Assolutamente sì Sì, 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 è qui Infatti sono contenta Vedi che i congressi servono Servono tantissimo Venite, venite, venite ai congressi Venite, venite, venite Grazie a voi Grazie a Marta Gemma Grazie a voi